Il progetto di rete ILD compie tre anni. Si tratta di un'iniziativa molto bella che ha lo scopo di favorire un approccio multidisciplinare alle patologie polmonari interstiziali conseguenti alle malattie infiammatorie reumatologiche di tipo autoimmune. Questa iniziativa è stata realizzata da ISEO ed è sostenuta da un grant non condizionante di Böhringer Ingeleim. Non ne parliamo con Davide Integlia, General Manager di ISEO. Dottor Integlia, da che bisogno clinico nasce questo progetto? A quali pazienti vi rivolgete? Ci rivolgiamo ai pazienti con malattie reumatologiche autoimmuni che possono sviluppare le interstitial lung disease, le malattie dell'interstizio polmonare dall'inglese e che è un insieme di condizioni patologiche secondarie alle malattie reumatologiche autoimmuni come l'artrite reumatoide e anche altri tipi di patologia. Dottor Integlia, visto che voi li avete conosciuti da vicino con il vostro progetto Rete ILD, ma come lavora il team multidisciplinare? Quali sono un po' i ruoli? È quello che abbiamo indagato tramite il progetto Rete ILD, che è una rete multidisciplinare composta da reumatologi, pneumologi, anatomopadologi, medici internisti e radiologi. Ebbene, proprio per prendere in carico un paziente così complesso che può sviluppare malattie dell'interstizio polmonare secondarie a malattie reumatologiche autoimmuni, abbiamo bisogno di un gruppo di lavoro di questo tipo negli ospedali italiani. Ecco, il progetto come si è poi strutturato? Ce lo racconti per bene? Praticamente il progetto Rete ILD nasce nel 2020 proprio con l'obiettivo di valutare la presenza è la strutturazione di team multidisciplinari negli ospedali italiani che possano prendere in carico pazienti con malattie con ILD e malattie reumatologiche autoimmune. Questo ha portato a molteplici incontri, quindi advisory board multidisciplinari, per poi realizzare una survey proprio per valutare la presenza e la strutturazione e come lavorano i team multidisciplinari in questo settore. Che bilancio si può fare di questa prima parte del progetto? Innanzitutto dalla nostra survey emerge come i team multidisciplinari siano presenti in molti centri italiani che trattano questo tipo di pazienti, ma il problema è che seppur in presenza di PDTA che prevedono l'organizzazione dei team multidisciplinari e anche altri documenti aziendali, a questo non segue ovviamente una realizzazione di gruppi di lavoro, di appuntamenti e un'archiviazione di dati che è conforme a quanto viene scritto. Molto spesso si rileva che i team multidisciplinari sono poi condotti su base volontaria, grazie a rapporti speciali tra medici e con strumenti di comunicazione assolutamente non idonei come telefonate o come scambio di informazioni su WhatsApp. Senta, l'evoluzione di questo progetto quale sarà? Sicuramente quello di far comprendere il valore della multidisciplinar discussion, quindi il valore della esistenza dei team multidisciplinari, ma anche il valore del monitoraggio della qualità di lavoro dei team multidisciplinari e ovviamente ampliare i team multidisciplinari in Italia proprio per permettere una diagnosi precoce delle ALD nei pazienti con malattie reumatologiche autoimmuni uniforme su tutto il territorio nazionale.